Allora Alessio, in questa fase di campionato è possibile giocare meglio di così o no? No, è possibile giocare così. Sono contentissimo della prestazione delle mie ragazze che hanno messo in campo il solito spirito che si vede ogni giorno in allenamento in queste prime uscite stagionali. Non più tardi di tre giorni fa abbiamo fatto una partita simile, secondo me, con un avversario ovviamente di livello assoluto e oggi hanno ripetuto la stessa partita con lo stesso carattere. Quindi insomma quella partita con Sio, quei tre tempi con Sio non erano stati un caso? No, no, no. Il carattere che abbiamo è questo. Se rimaniamo una squadra umile, perché sappiamo che dobbiamo essere una squadra umile che deve lottare assolutamente per la salvezza, allora siamo questi. Appena caliamo leggermente di intensità, non ci mettiamo il 100%, poi succede che magari non facciamo buone prestazioni come è successo due volte in due amichevoli precampionato. Dipende tanto da noi e quindi questo comunque mi dimostra che la squadra ha in campionato in questo momento sta mettendoci il cuore e la testa. Senti, a parte i primi 15 giorni in preparazione fisica, però da quando si è cominciato a parlare un po' della squadra ti hai sempre avuto sensazioni così? Ne aveva sempre detto che questa squadra risponde bene? Sì, si allenano bene. È la base. Quando ci si allena bene poi si va in campo e si gioca bene. Non è mai un caso. Bisogna comunque poi dopo metterci sempre la testa, quella è la base. Però le sensazioni sono dovute agli allenamenti. Agli allenamenti e il modo in cui hanno queste ragazze, il modo in cui hanno l'approccio sul campo e su quello che gli viene proposto. Quindi le sensazioni per ora sono positive. dobbiamo solo continuare su questa strada. È chiaro che oggi è andato tutto bene, non sarà sempre così. Loro avevano due assenze importanti. Una importantissima che è la loro lunga americana che gli dà una profondità che oggi non avevano. Quindi cosa è successo? È successo che noi avevamo profondità, loro si sono molto chiuse sulle nostre lunghe e abbiamo avuto spazi fuori. Quindi non sarà sempre così, non conteremo le altre squadre a completo e niente. Quindi dobbiamo assolutamente rimanere concentrati. C'è un dietro le quinte che vorrete raccontarsi di questa partita. C'era in Mattias che si è infortunata due serie fa? No, io devo solo che ringraziare lo staff sanitario. Il dottore Nilo ha fatto un miracolo con Mattias per via della caviglia che due giorni fa sembrava brutta e poi tutto lo staff compreso Rocchini e Andrea, tutti che hanno poi dopo anche messo in campo Morris che anche lei era al 50% e ancora secondo me non è al top. Quindi tutto, non vorrei dimenticare qualcuno, Diego che le segue. Gran parte di questa prestazione la devo a loro, a come hanno lavorato in settimana, assolutamente. Ora avranno anche tempo per recuperare, perché c'è la sosta, la settimana dopo la trasferta a Venezia. Sì, dieci giorni, dieci giorni dopo due partite di fila ci vogliono, ma ci vogliono soprattutto in questo momento della stagione perché è difficile avere poi il ritmo per due partite quando ancora la condizione non è al top come non può essere al top all'inizio stagione. Dieci giorni fanno comodo, fanno comodo a noi, ma fanno comodo anche alle altre squadre considerando che poi si va a fare una partita molto molto difficile a Venezia. Il calendario adesso è duro perché abbiamo Venezia e poi Bologna in casa che ha fatto oggi, ho visto una partita straordinaria a Ragusa, quindi le prossime due saranno sicuramente due partite veramente veramente dure. Quindi dieci giorni per riprendere le forze, le energie fisiche ma soprattutto mentali. Grazie. Grazie.